Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Signor Gesù mio, siccome in questo dì si sollenne, vi siete fatto vedere e manifestato. Vi siete nel mondo per vero Figlio di Dio. Per cui la gente guidata da una nuova stella è venuta ad adorarvi. De mio Gesù, concedetemi, per vostra bontà, che io per mezzo della fede conoscendovi, abbia la felicità di giungere persino alla contemplazione immediata di vostra gloria ineffabile. Il nome vostro sia sempre glorificato, insieme col vostro Padre, e con lo Spirito Santo. Per tutta la eternità. E da tutti i popoli. Così sia. Padre nostro che sei nei cieli. Si è santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debituri. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen.